In questo tutorial vediamo degli esempi di equazioni di primo grado. Partiamo da questo primo esercizio. Fisso l'attenzione su questa quantità, osservo che qui ho meno 1, qui ho 1, e allora posso semplificare e poi sviluppare il quadrato di x e scrivere x alla seconda. Passiamo ora a quest'altra quantità. Qui ho meno 2, qui ho 2. Posso semplificare e quello che mi resta è x alla seconda che vado a ricopiare, quindi più x alla seconda uguale. Ora sviluppiamo questa moltiplicazione. x per 2x è pari a 2x alla seconda e x per 1 ottengo più x. A primo membro sommo x quadro con x quadro ed ottengo 2x quadro. A secondo membro ho 2x quadro e allora semplifico tutto. Quello che ottengo è 0 uguale x, ossia come soluzione ho x uguale 0. Passiamo a questa seconda equazione. Come prima cosa sviluppo questo quadrato di binomio e allora scrivo 7, apro la tonda, 3 alla seconda è 9, più x quadro e poi eseguo il doppio prodotto ottenendo meno 6x e chiudo la tonda. Meno 2, apro la tonda e sviluppo questa moltiplicazione. x per x è pari a x alla seconda, x per meno 8 ottengo meno 8x, meno 5 per x ottengo meno 5x ed infine meno 5 per meno 8 ottengo più 40 e chiudo la tonda uguale 5, apro la tonda e sviluppo questo quadrato di binomio ottenendo x alla seconda più 9 più 6x. Ora eseguo questa moltiplicazione. 7 per 9 è pari a 63, 7 per x ottengo più 7x alla seconda, 7 per meno 6x ottengo meno 42x. Ora eseguo questa moltiplicazione. Meno 2 per x quadro ottengo meno 2x quadro, sommo meno 8x con meno 5x ottenendo meno 13x e meno 2 per meno 13x scrivo più 26x. Infine, meno 2 per 40 ottengo meno 80 uguale. Eseguo questa moltiplicazione. 5 per x quadro ottengo meno 5x quadro, 5 per 9 scrivo più 45 e 5 per 6x ottengo più 30x. Sommo ora i termini in x quadro, 7x quadro meno 2x quadro è pari a 5x quadro, a secondo membro o 5x quadro. Allora semplifico tutto. A primo membro sommo le x, meno 42x più 26x, ottengo meno 16x e 63 meno 80 è pari a meno 17. A secondo membro ricopio 45 più 30x, porto ora 30x a primo membro e meno 17 a secondo membro e scrivo meno 30x meno 16x uguale 45 più 17 meno 30x, meno 16x è pari a meno 46x e 45 più 17 è pari a 62. Moltiplico tutti e due membri per meno 1 e scrivo 46x uguale meno 62 e poi divido tutte e due membri per 46 semplificando il coefficiente della x. A secondo membro divido per 2, 62 diviso 2 ottengo 31, 46 diviso 2 ottengo 23 e allora la soluzione x uguale meno 31, 23. Passiamo a questo terzo esercizio e come prima cosa eseguo questa moltiplicazione. x per x alla seconda ottengo x alla terza, x per meno 6x è pari a meno 6x alla seconda ed x per meno 1 ottengo meno x uguale. Svilupo ora questo cubo, x alla terza è pari a x alla terza, poi devo scrivere il triplo prodotto del quadrato del primo per il secondo ed ottengo meno 6x alla seconda. Scrivo poi il triplo prodotto del primo per il quadrato del secondo, meno 2 alla seconda è 4, per 3 ottengo 12, per x e scrivo 12x. Ed infine meno 2 alla terza è pari a meno 8. Fisso ora i termini in x alla terza. Ho x alla terza a primo membro e x alla terza a secondo membro. Li posso semplificare. Fisso ora l'attenzione sui termini in x quadro. Ho meno 6x quadro a primo membro e meno 6x quadro al secondo membro che posso semplificare. Porto ora 12x a primo membro ed ottengo meno 12x meno x uguale meno 8. Meno 12x meno x è pari a meno 13x uguale meno 8. Moltiplico tutte e due membri per meno 1 e scrivo 13x uguale meno 8. Infine divido tutte e due membri per 13. In questo modo semplifico il coefficiente della x ed ottengo x uguale 8 tredicesimi. Vediamo questo quarto esempio. Fisso l'attenzione sul primo membro. Ho una quantità elevata alla 0. Una quantità diversa da 0 elevata alla 0 è pari a 1. Suppongo ora che tutta questa quantità sia diversa da 0 e allora questa quantità alla 0 risulterà essere pari ad 1 uguale x e allora come risultato ottengo x uguale 1. Una volta che ho determinato la soluzione di questa equazione devo controllare se effettivamente questa quantità è diversa da 0 e allora al posto della x vado a sostituire 1 ed ottengo 1 meno 3 alla terza più 1. 1 meno 3 è pari a meno 2 meno 2 alla terza. Ottengo meno 8 più 1. Ottengo meno 8 più 1 che risulta essere pari a meno 7. Effettivamente questa quantità è diversa da 0 e allora il ragionamento che ho fatto è corretto. Sviluppiamo quest'ultima equazione. Come prima cosa eseguo questa moltiplicazione x meno 1 per x meno 2 e allora apro la tonda. x per x ottengo x alla seconda. x per meno 2 è pari a meno 2x. Meno 1 per x è pari a meno x e meno 1 per meno 2 ottengo più 2 che moltiplica x più 6. Poi meno, apro la tonda e sviluppo questa moltiplicazione. x per x è pari a x alla seconda. x per meno 4 è pari a meno 4x. 3 per x è pari a 3x e 3 per meno 4 è pari a meno 12. x per meno 12 che moltiplica x meno 7 uguale 11. Apro la tonda e sviluppo questa moltiplicazione. x per x è pari a x alla seconda. x per 4 è pari a 4x. Meno 5 per x è pari a meno 5x e meno 5 per 4 è pari a meno 20. Meno 2x meno x è pari a meno 3x e allora scrivo x alla seconda meno 3x più 2 che moltiplica x più 6. Meno, apro la tonda, qui sommo meno 4x con 3x e scrivo x alla seconda meno x meno 12 che moltiplica x meno 7 uguale. Eseguo questa moltiplicazione. 11 per x quadro ottengo 11x quadro. 4x meno 5x risulta essere pari a meno x e allora 11 per meno x ottengo meno 11x. Ed infine 11 per meno 20 ottengo meno 220. Ora eseguo questa moltiplicazione. x alla seconda per x ottengo x alla terza. x alla seconda per 6 è pari a 6x alla seconda. Meno 3x per x è pari a meno 3x alla seconda. Meno meno 3x per 6 è pari a meno 18x. Poi 2 per x e scrivo più 2x e 2 per 6 ottengo più 12. Meno, apro la tonda, e sviluppo questa moltiplicazione. x alla seconda per x ottengo x alla terza. x alla seconda per meno 7 è pari a meno 7x alla seconda. Meno x per x è pari a meno x alla seconda. Meno x per meno 7 è pari a 7x. E poi meno 12 per x ottengo meno 12x. E meno 12 per meno 7 è uguale a più 84. E chiudo la tonda. Il secondo membro lo vado a ricopiare. Ora devo cambiare segno a questi termini. Ora devo cambiare segno a questi termini. Il resto lo ricopio. ricopio x alla terza. 6x quadro meno 3x quadro ottengo più 3x quadro. Meno 18x più 2 ottengo meno 16x più 12. Qui cambio segno a tutto. E allora scrivo meno x alla terza. All'interno ho meno 7x quadro meno x quadro che è pari a meno 8x quadro. Cambiando disegno scrivo più 8x quadro. Poi ho 7x meno 12x che risulta essere pari a meno 5x. Cambiando disegno scrivo più 5x. Ed infine meno 84. Il secondo membro lo vado a ricopiare. Ora fisso l'attenzione sui termini in x alla terza. Ho x alla terza e meno x alla terza. Sono opposti e li semplifico. Passo ai termini in x quadro. 3x quadro più 8x quadro è pari a 11x quadro. A secondo membro ho 11x quadro. Allora semplifico tutto. Sommo i termini in x. 16x più 5x ottengo meno 11x e poi 12 meno 84 è pari a 72 uguale meno 11x meno 220. Osservo che ho 11x a primo membro e 11x a secondo membro. Sono termini identici, membri opposti e li semplifico. Quello che mi rimane è meno 72 uguale a meno 220. Questo numero è diverso da questo numero e allora mi fa capire che questa equazione risulta essere un'equazione impossibile. E con questo termino il tutorial su esempi di equazioni di primo grado.